Dopo un Consiglio dei Ministri infuocato durato circa sei ore, adesso e Bene e Tonno hanno accettato tutte le condizioni del Governo, usciranno da autostrade e pagheranno i miliardi di danni ai cittadini prima di andare via. In più l'accordo prevede l'aumento in investimenti in sicurezza sull'intera rete autostradale, la diminuzione delle tariffe e soprattutto che le autostrade tornino di nuovo in mano ai cittadini, con l'ingresso di cassa, depositi e prestiti nel Consiglio di Amministrazione. Io credo che sia necessario avere una riflessione su quanto avvenuto, noi avevamo tutti contro, tutti quanti contro, non ci siamo mai fermati, adesso però bisognerà monitorare come saranno definiti tutti i dettagli, ma io penso che siamo sulla direzione giusta, le autostrade ritornano nelle mani dello Stato, la promessa è stata mantenuta.